L'orizzonte si allunga se lo fissi dall'alto e la mia libertà è andare dove voglio, portando con me le mie passioni. C'è tanto da scoprire, ad esempio che non è importante quanto si viaggia, ma come si viaggia. Posso cominciare a rilassarmi da subito, senza rimandare quello che mi fa stare bene. Scoprire che stare tutti insieme è impagabile, specialmente se pago la metà. E posso portare tutti i bagagli che voglio. Scrivi con noi il più bel viario di bordo. Spagna, Grecia, Sardegna, Sicilia, Marocco e Tunisia. Dal massimo comfort alle convenienti tariffe low cost. L'auto o la moto viaggiano gratis e in cabina quattro persone pagano per due. E prenotando subito, c'è uno sconto del 15% fino al 31 maggio. Grimaldi Lines, compagni di viaggio.